La banca, se tu vedi purtroppo l'Europa, teoricamente erano tre cose che dovevano circolare, la moneta, le merce e le persone, per tanto che una sola circola e circola in un senso solo, circola dove ce n'è tanta, dove ce n'è tanta continua a circolare, dove ce n'è poca. Non bastare lo spostaggio delle banche che possano investire da 1 a 50 volte il capitale che hanno, bisogna poi sostituire l'uso della moneta con l'uso del credito, perché noi bisogna solo del credito, la moneta è solo una misura che può essere sostituita con un'altra misura, un'altra misura, quindi il signoraggio è nostro, la moneta è nostra, è proprietà nostra e quindi dobbiamo riapprovarci. Secondo me voi farete un ottimo lavoro se sparate questi argomenti. Speriamo, l'importante è veramente arrivare, riuscire a battere il PD, perché è un segnale fortissimo che i cittadini sono con noi. Se questo non è male, questa campagna secondo me è la campagna veramente di svolta, perché se ci portiamo a casa questo è la campagna di svolta, è veramente la campagna in cui i cittadini vogliono veramente cambiare e sono con noi nel portare avanti questo cambiamento. Ed è un cambiamento dal basso, perché questa è la cosa bella, non è un cambiamento, è un cambiamento dal basso. È bellissimo, è sostengo al massimo questo, perché non ci vogliono voti, ci vuole proprio attivazione, tutti devono essere persone, cittadini, 5 stelle. Solo questo. Certo, certo.